E' stata ufficialmente costituita presso lo studio notarile Giordano Ecomisso l'Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste, ALPT, promossa su impulso dell'autority con la partecipazione di ben 16 imprese e operanti nello scalo Giuliano. La costituzione dell'agenzia è stata un passo fondamentale. Il lavoro nei porti è prioritario quanto lo sono le infrastrutture. La scelta che abbiamo compiuto darà certezza e stabilità a tanti lavoratori ed aiuterà il porto ad affrontare le sfide del gigantismo navale e della produttività. Voglio sottolineare la grande unità delle imprese attorno a questo progetto. Ora serve l'impegno di tutti per dare all'apporto ancora più slancio. Questo è il commento del commissario dell'APT Zeno D'Agostino. Per un periodo sperimentale di 12 mesi a seguito di specifica autorizzazione concessa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'agenzia vedrà la partecipazione maggioritaria dell'autorità portuale. Trascorso tale periodo, finalizzato alla stabilizzazione del mercato del lavoro nell'ambito portuale, l'autority dovrà obbligatoriamente cedere la propria partecipazione. La quota di minoranza del capitale sociale è stata distribuita in parte uguale fra i 16 soci privati. La governance dell'agenzia rappresenta un modello particolarmente innovativo. Allo scopo di garantire la piena neutralità del soggetto destinato a fornire a tutte le imprese portuali e di terminalisti il lavoro portuale temporaneo, ciascun socio non potrà comunque detenere quote ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla suddivisione in parti uguali del capitale. Il Consiglio di amministrazione sarà affiancato da un comitato dei garanti di tre membri, espressione dell'autorità portuale, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali. Tale comitato, che parteciperà di diritto alle sedute del CDA, avrà rilevanti poteri di indirizzo e controllo, sia in merito alla gestione che in rispetto alla definizione dei programmi formativi. L'agenzia infatti dovrà promuovere intensamente la formazione professionale dei lavoratori finalizzata all'acquisizione di tutti i titoli per poter condurre ogni tipo di macchina operatrice e dalla massima polivalenza, nonché ad accrescere la sicurezza sul lavoro. Durante la fase sperimentale il CDA sarà formato da Mario Sommariva, segretario generale delle Autority, con il ruolo di presidente dal dirigente del lavoro portuale Fabio Crosilla, da Federico Decli dell'Ufficio Legale dell'Ente. In rappresentanza dei soci privati sono stati designati Marco Furlan, amministratore di Seaway, e Massimo Zucchi, terminal manager di IMT. L'organico dell'agenzia, in prima battuta, sarà costituito da soci dell'attuale fornitore di lavoro temporaneo Minerva e da tutto il personale proveniente dal fallimento della COP Primavera per un totale di 111 unità. Il Ministero, al termine della fase sperimentale, valuterà la congruità dell'organico rispetto alle giornate di effettivo avviamento al lavoro secondo gli standard stabiliti a livello nazionale.